Ma io non tengo parole, non ho parole Triplo colpo di calciomercato in un giorno Triplo colpo di calciomercato in un giorno Triplo colpo di calciomercato in un giorno Ma che cazzo sta succedendo? Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926 Ma io sto tutto ingrifato Ragazzi, sono euforico, posso dirlo, sono euforico Oggi il Napoli ha praticamente ufficializzato il Ciolo Simeone Quindi sta già svolgendo il primo allenamento Ha ufficializzato Raspadori Perché oggi ci sono le visite mediche per Raspadori a Napoli E ha ufficializzato Don Belè Don Belè è già arrivato in Italia e a Roma Fra pochi minuti arriverà a Viglia Stewart Se non c'è già arrivato, molto probabilmente Perché questo video uscirà alle ore 3 Ce l'aiù Io ve l'ho detto Io ho sempre criticato la società in questo precampionato Perché io l'ho sempre detto Se tu vuoi vendere giocatori importantissimi Li devi andare in qualche modo a risanare queste mancanze che tu hai creato Giuntoli Finalmente ci è riuscito Perché tu hai portato a Napoli Kim, che sappiamo non è Khalidou Koulibaly Ma è comunque un buon difensore centrale Oliveira, il terzino sinistro che ti mancava Kvara Skeia Perché ragazzi Kvara molto probabilmente nel giro di due stagioni Varrà sui 100-120 milioni Perché se continua così è una cosa allucinante Hai preso Raspadori 5 milioni più 25 di obbligo di riscatto E 5 di bonus Hai preso Don Belè 1 milione più 30 di riscatto Non penso sia obbligo Il contratto poi lo pagherà 75% Il buon Tottenham di Antonio Conte E poi oggi hai ufficializzato Simeone Ti devo fare i complimenti A questo punto io ti posso fare i complimenti Perché ora hai costruito un Napoli degno Per andare in UEFA Champions League E qualora Qualora questo Napoli Dovesse Putacaso arrivare fra le prime 4 E molti giornalai dovrebbero chiedere scusa A noi tifosi del Napoli Detto questo Forse la contestazione ha fatto bene a tutto questo Non lo so Io voglio pensare di sì Che forse questo Tutto questo contestare la società A qualcosa è servito Ci sarà l'esordio al Maradona Se non sbaglio domenica Se non sbaglio non vorrei dire una cavolata Tutto esaurito Tutto esaurito Se tu poi al Maradona Mi ci fai trovare anche questi altri tre giocatori Io Carlo Aurelio A quel punto ti posso anche applaudire Ti posso anche applaudire a quel punto Però stiamo lì Stiamo lì Non abbiamo ancora dimostrato nulla Ecco Non è che perché ora abbiamo preso tre giocatori Quattro giocatori Quattro giocatori Dobbiamo vincere lo scudetto No Perché io vedo già molti Molti esaltarsi Perché voi già vi siete esaltati Per la vittoria contro il Verona Il Verona che era già uscito Dalla Coppa Italia contro un Bari Cioè Proprio fa capire la situazione Lo Verona Ecco Non vorrei che si andasse a creare La stessa situazione Che c'è stata l'anno scorso Quando poi nel momento crudo E la stagione Non siete più andati allo stadio Non l'avete più sostenuto la squadra Ecco Non facciamo come l'anno scorso Che nel momento più bello Dove serviva La cattivera dello stadio Maradona Vado stato zitto E sembrava di essere al San Carlo Ecco Questo non lo vorrei mai Però Però Per una vittoria contro il Verona Sembra che ci siamo esaltati un po' troppo Ecco Ora Questa nuova ventata di aria fresca Che poi ti porta a credere In un cambio modulo Perché ora il Napoli potrà sfruttare Due cambi modulo Tu ma Un attimo Tu ma sei contento Tu ma Contento pure lui Tu ma sei troppo contento Comunque Vi stavo dicendo Questi nuovi acquisti Che il Napoli ha fatto oggi Ah Gentilmente Mi potete chiedere anche scusa Perché quando io vi dissi Di Raspadori Che era Ufficiale al Napoli Tutti quanti mi avete detto Non capisci niente Sei ridicolo Clickbait Il tempo A chi ha dato ragione A Neapolis O a voi Bande e scema Perché siete una bande e scema Ecco Scusatemi Dovevo fare questo piccolo sfogo E questo piccolo dissing A qualcuno Che Che gli piace Venire qui a commentare sotto Ed insultarmi Ecco Scusatemi Detto questo Come vi stavo dicendo Non ho capito perché si è fermata Il video Vabbè Comunque Detto questo Il Napoli può giocare con due Moduli 4-3-3 Con sia Don Belè Lobotka Ed Anghissa Oppure Viceversa Lobotka fuori Dentro Zenlischi O fuori Anghissa Dentro Don Belè Cioè Ok Detto questo 4-3-3 Con la mediana 3 Lobotka Anghissa E Don Belè E sarebbe una mediana Allucinante Poi naturalmente Vai a sacrificare Zenlischi Ecco Andare a sacrificare Zenlischi Sinceramente Mi roderebbe un po' Il sederino Detto questo Sto tutto euforico Voglio Sto euforico Vaggirit Comunque Detto questo Potresti andare anche a giocare Con il 4-3 1-2 Va bene Oppure con il 4-2-3-1 Che tanto piace a Luciano Spalletti Con Raspadori Dietro la punta Che sarebbe Osimene La Telaric Vara E Lozano Ragazzi Hai tante alternative Ora Perché tu hai anche Simeone In panchina Perché voglio Metti caso Perché poi Non è che Non è da dire Che Osimene Sia uno tranquillo Che non prenda I cartellini gialli No Perché voglio Osimene E' uno di quelli Di stile Balotelli Non mi toccare Che se no Io piglio E esplodo Quindi E' sempre meglio Avere un secondo Attaccante di riserva E che attaccante di riserva Cioè passi da Petagna A Simeone Il passo è molto alto Cioè quindi Un buon passo in avanti Su quello Poi era normale Che uno era Io ho criticato La società Ma è normale Che uno critichi La società Siamo In democrazia Ognuno può avere Il suo Di pensiero O giusto o sbagliato Cioè non è che io vengo A dire Cazzo fai E voti la Meloni A settembre E voti Salvini A settembre Che sei del sud Cioè Avete capito Che vi voglio dire No Quindi se sei del sud E voti Lega Sinalotto Cioè Però questo è un vostro pensiero Avete le vostre ideologie Io In quel periodo Che il Napoli Non riusciva a completare Nessuna operazione Di calciomercato Non riusciva a chiudere Nemmeno per un secondo portiere Che poi si è rivelato Sirigu Cioè io lì Mangio un grifato Poi vedi che Di Bala Va alla Roma Che tu lo potevi prendere Tranquillamente Ha preso Raspadori Certamente Però Fra i due Capito a me Preferivo più Un arrivo di Di Bala Per l'importanza Che ha Di Bala Il peso che ha il giocatore Però Raspadori ragazzi Giovane italiano Futuro campione Quindi Vediamo se il tempo Dà la ragione ad Aurelio Molto spesso Dà la ragione ad Aurelio Il tempo Ecco Quindi C'è da fare veramente Complimenti alla società Perché si è mossa bene Giuntoli Finalmente Forse È stato a sentire Luciano Spalletti Perché Raspadori È stato voluto Fortemente da Spalletti Uguale Don Belè E quindi Staremo a vedere Ecco Potrebbe essere Un anno Di divertimento Come potrebbe essere Un anno Di transizione E Non vedere Un Napoli Brillantissimo Perché siamo Tutti giovani Ragazzi Ecco Non vi dimenticate Che il Napoli È molto molto giovane Questo ridimensionamento Che ha fatto il Napoli È anche Un ridimensionamento Di età Quindi abbassi l'età Giustamente Giocatori che non hanno Mai giocato A un livello internazionale Va bene E li porti a giocare In Champions League Metti caso Il Napoli Piglia Real Madrid Perché segnate Per il Napoli Prenderà di sicuro Il Real Madrid Paris Saint Germain Squadroni Sono convinto Al cento per cento Perché so Vede la fortuna Dei gironi Del Napoli E puttacasso Dovessimo passare Poi i gironi Di Champions League Agli ottavi Ti capita Ti capita di sicuro Lo squadrone Il Manchester City Di Guardiola Perché tanti accussi Non mette State tranquilli Ecco Non c'è nessun problema Detto questo Sono contento Di questi nuovi acquisti Qualcuno dice Manca per ora Il portiere Ragazzi Io l'ho sempre detto Diamo fiducia A Meret Finché veste La maglia Del Napoli Bisogna dare fiducia Ai nostri giocatori A quelli che abbiamo Attualmente In rosa I giocatori Che sono Di altre squadre Non ce ne deve interessare Che Lornavas È attualmente Del Paris Saint Germain Sbattiamoci Nei coglioni Meret È del Napoli In questo momento Diamo fiducia A Meret Ragazzi Perché Meret Io sono convinto Se noi gli diamo Un po' di fiducia A questo ragazzo A questo povero Cristo Potrebbe sorprendere Veramente molti O agli uno Noi non diamo troppo Per scondato Meret Non esce mai Ragazzi Ma voi avete mai Giocato in porta Voi avete mai Fatto il portiere Sapete cosa significa Fare il portiere Ecco Io è qui che vi voglio Perché se non avete Mai giocato fra i pali E avete solo Giocato fuori Dall'area di rigore Non venite a farmi Questi ragionamenti Sui portieri Su Meret Che non esce Perché Why you Mi basta giocare Mezza stagione in meno Per non trovare più Quegli stimoli Che tu hai Ora Stimoli in serie A Uno ne dovrebbe avere A Iosa Perché giochi in serie A Giochi Giochi da milionario Perché poi Si parla di milioni Però ragazzi Non tutti siamo uguali C'è chi se la prende E chi se la prende meno Quindi diamo fiducia Ad Alex Meret Fino a che non arriva Un nuovo portiere E se non dovesse arrivare A me va benissimo Meret Poi Siriku Siriku potrebbe essere Uno che gli dà una mano A migliorarsi molto Ragazzi Quindi stiamo Stasi Soft Comunque Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo Triplo colpo Di calcio Mercato Io E' una cosa Allucinante Comunque fatemi sapere Voi qui sotto Cosa ne pensate Di Don Belè Il ciolito Simeone E di Raspatori Perché E' usciuto Pazzo presidente Sempre e comunque Forza Napoli Dal vostro Neapolis 1926 Io non so nemmeno Cosa devo dire più Perché Cioè io non Mi aspettavo nemmeno più Questi giocatori Sono sincero E occhio Occhio Perché le bombe di Vlad Ha detto Molto probabilmente Il calciomercato di Napoli Non è finito qui E se lo dice Vlad Stam apposto Sempre e comunque Forza Napoli Dal vostro Neapolis 1926 Ciao Aiu